Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod. Oggi recensirò la Eldroid, una all-in-one per Galaxy S3 con tantissime impostazioni e ottime prestazioni che ha raggiunto la versione finale. Siete curiosi di vederla in azione? Ve la mostro subito, ma prima intro! Bene, partiamo con le informazioni principali. La ROM, che come già detto ha raggiunto la versione finale, quindi è stabile, è basata su Android 4.4.4 KitKat e presenta le principali funzioni di CyanogenMod, Paranoid Android e Slim, per cui le impostazioni aggiuntive sono davvero tante. Nella categoria Sistema sono state aggiunte Performance Control per modificare i valori della CPU, il Governor e lo Scheduler, e Kernel Tweaker per avere dati in tempo reale sul Kernel e la CPU e per poterli personalizzare in modo ancora più completo. Come vedete le possibilità sono davvero tante. Continuando, sono state aggiunte le opzioni Profili e Partition Info e soprattutto l'intera sezione Avanzate, che contiene tutte le impostazioni di cui possiamo avere bisogno. Su Downloads troviamo delle voci che rimandano ai siti per scaricare le Google Apps, l'Exposed Framework e la Fill Z Recovery e modalità scura TRDS che sta per Doreal Dark Slim e consente di attivare un tema nero che rende i menu molto più eleganti e che può essere abilitato in modo manuale, al variare delle condizioni di luce o a seconda del momento della giornata. Time Chooser è il gestore di temi di CyanogenMod attraverso il quale possiamo modificare stile, icone, caratteri, font e ogni altro aspetto del firmware tramite pacchetti che sono da scaricare a parte. Per esempio impostiamo Ideal per avere un aspetto che ricordi Android Lollipop e Dynamic Color Changer permette di scegliere il colore e l'opacità di Status e Navigation Bar. Il tutto non finisce qui in quanto su Android Vault ci sono ancora tantissime voci. Driving Mod ovvero una modalità alla guida per far sì che il dispositivo ci legga le notifiche in arrivo, Gesture Anywhere che abilita il riconoscimento dei gesti e Lock Screen che permette di personalizzare in modo più che completo la schermata di blocco. Per esempio scegliendo le azioni da far compiere ai tasti in tale schermata, impostando interfaccia, collegamenti e tema, inserendo i widget, lo stato della batteria e tante altre utili funzioni. Su Navigazione possiamo impostare il menu globale, ovvero quello che si ottiene tenendo premuto a lungo il tasto Power, i tasti Hardware personalizzando le azioni ad essi associate, la barra di navigazione, i Pi Controls cioè i famosi controlli a torta e ho detto i in quanto potremo scegliere tra quello sviluppato dal Team Slim e quello creato da Paranoid Android, e gli eventi Shake che servono a lanciare determinate attività nel momento in cui scrolliamo il device. Notifiche Quick Settings consente di personalizzare il menu a tendina principale e quello secondario con gli strumenti, status bar di fare la stessa cosa con la barra di stato e nella categoria Notifications troviamo le più famose modalità di notifica. Dall'Active Display che se il device è in Standby all'arrivo di un avviso lo accende in una schermata particolare, alle notifiche Zap introdotte da Google con Lollipop, continuando con Over che è una feature simile ma creata dal Team Paranoid e finendo con le notifiche per la schermata di blocco. Up Bar e Up Circle Sidebar sono due menu attivabili sui lati sinistro e destro del display che vi permetteranno di avere a portata di dito tante applicazioni. Le voci Animations e Identicons permettono la prima di personalizzare le animazioni di sistema e la seconda di assegnare ai contatti un'icona diversa da quella di default e General consente la modifica dei DPI. Per finire su Opzioni Avanzate avremo ulteriori impostazioni per il dispositivo, un Add Blocker, la modalità Risparmio Energetico, due voci per la modifica dei file Build Prop e Init D, Super User, System Up Remover per disinstallare applicazioni di sistema e Wake Lock Blocker. Perciò una ROM che merita già solo per il modo in cui è strutturata e per la vastità di personalizzazioni e impostazioni che offre, ma torniamo alla Home e vediamo le applicazioni fornite di default. Quelle messe a disposizione sono DevTools ovvero un insieme di strumenti per gli sviluppatori, documenti che è un ottimo file manager in Material Design, DSP Manager per il controllo del suono, un emulatore terminale e messaggi, musica che è un lettore musicale e a dir la verità è davvero datato e poco funzionale, le impostazioni per Nova Launcher, la ricerca vocale di Google, Simple Explorer cioè un altro file manager anche questo in Material e per ultima una torcia. Sono presenti le impostazioni per Nova in quanto oltre altre busce di CyanogenMod di sistema viene inserita la famosa interfaccia alternativa. Ok, vediamo ora la fotocamera. Camera che è quella dell'Android puro ma che permette di salvare le foto sulla scheda SD, di scattare con il tasto ON-OFF e di rendere lo schermo più luminoso, di effettuare scatti continui e tante piccole aggiunte rispetto a quella classica. Proviamo quindi a fare qualche scatto. Come vedete la velocità di messa a fuoco e di scatto è buona. Andiamo ad osservare i risultati ottenuti e sono tutti nitidi e ben definiti perciò fotocamera ottima. Lo stesso vale per la parte video che funziona alla perfezione. Bene, nessun bug da segnalare per cui passiamo alle considerazioni finali. Per quanto riguarda la gestione energetica mi sono trovato decisamente bene raggiungendo sempre le 15-16 ore con circa 3 di schermo e arrivando a fine giornata con un utilizzo abbastanza intenso. Anche stabilità e fluidità sono perfette e io non ho mai notato riavvii spontanei e ne sono mai stato costretto a riavviare forzatamente, per cui nel complesso è una delle ROM migliori che io abbia provato fino ad ora per il Galaxy S3. Una marea di personalizzazioni tutte perfettamente suddivise e soprattutto funzionanti che non influiscono in modo negativo sulle prestazioni e anzi, sono un gran valore aggiunto. Perfetto, nient'altro da dire se non che il link per il download l'ho trovato in descrizione, quindi questo per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel mi piace, condividetelo e ricordatevi di iscrivervi al canale e per qualsiasi cosa non esitate a contattarmi nei commenti qui sotto oppure su Facebook o Twitter. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti! Grazie a tutti!